che modi borbottò beppe guardandosi attorno nei suntuosi locali del periodico mondano prima ti invitano a fare una cosa e poi protestano se la fai ma nessuno vi ha invitato a domandarmi certe cose strepitò la contessa mara con le gotte imporporate di sdegno e di pudico rossore come no fece antonio sono questi o non sono questi gli uffici del periodico d'arte moda e mondanità la vita in rosa sono questi fece la contessa mara e con ciò un momento continuò l'altro è lei o non è lei che scrive in questo periodico firmandosi nirvana sono io disse la contessa con fierezza e me ne vanto si tratta ad un periodico di larga diffusione che entra nelle migliori famiglie questo non interessa proseguì il visitatore impassibile mi dica piuttosto è lei o non è lei la titolare della rubrica sono tutta per voi sì signore esclamò la contessa sono io e me ne dichiaro fiera e orgogliosa è una rubrica seguita dal grande pubblico questo non mi riguarda interruppe l'altro mi lasci dire gli die sulla voce alla contessa è una rubrica seguita dal grande pubblico e nella quale io rispondo ai quesiti che mi vengono rivolti e dunque esclamò il visitatore in tono di trionfo che cosa ho fatto io se non rivolgerle un quesito la illustre pubblicista lo incenerì con un'occhiata ah sì gridò le sembrano domande da farsi ma il fatto che io risponda non deve autorizzare nessuno a rivolgermi domande sconvenienti come avete fatto voi ma a certe domande non c'è che una risposta da dare la porta la illustre collaboratrice del periodico con gli occhi sfavillanti di contenuto sdegno indicò l'uscita al visitatore ma questi non si mosse un momento disse un momento se lei mi lasciasse parlare vedrebbe che non ho fatto altro che quanto ella desiderava ho sfacciato gridò la contessa che stava perdendo il lume degli occhi quello che anzi lei ha esplicitamente invitato i lettori a fare aggiunse l'altro con flemma mise sotto gli occhi della dama a un numero del periodico indicando un trafiletto e lei che ha scritto questo domandò sono io disse la signora sbirciando il giornale e dunque esclamò l'altro con un tono che non ammetteva repliche se so leggere non ho sbagliato legga che cosa questo ebbene legga quello che ha scritto la nobile dama lesse rilesse concentrandosi nell'attenzione per cercare di capire in che consistesse quello che secondo l'altro aveva autorizzato la di lui sconveniente domanda alla fine si strinse nelle spalle io mormorò non ci trovo niente che possa giustificare ah non ci trova niente strepitò l'altro non ci trova niente allora le leggerò io quello che lei ha scritto il suo trafiletto termina con le parole se avete quesiti da porci rivolgetevi a me che sono qui per soddisfarvi ebbene balbettò la contessa quesiti da porci strepitò il visitatore la contessa in pallidì ma no gemè con la o stretta e non con la o larga come sarebbe a dire fece l'altro voce del verbo porre spiegò la scrittrice con un fil di voce se avete dei quesiti da porci e non da porci e cadde svenuta mentre il visitatore rileggeva la frase incriminata che posso sapere borbottava fra sé che posso sapere io leggendo se una vocale stretta o larga io credevo con la o larga ho letto una domanda da porci e ho rivolto una domanda da porco la contessa veniva intanto soccorsa dalle colleghe